Ben trovati al focus di TV Centromarche, mancano 4 giorni a Natale e quindi siamo nel pieno delle festività e abbiamo voluto però approfittare di questo momento nell'ambito del nostro approfondimento anche per fare una riflessione su questo momento e allora chi meglio come ospite in studio questa sera del Presidente della conferenza episcopale marchigiana, il Presidente dei Vescovi Scusa, avvi pazienza, sbaglio una volta all'inizio e basta, poi non sbaglio più, è sempre così Scusa Matteo, allora parti da stretto, poi dopo quando dico chi è l'ospite allarghi Sì, esatto, esatto, scusa ecco Ben trovati al focus di TV Centromarche. Mancano 4 giorni a Natale, siamo nel pieno delle festività ma è anche un momento per una riflessione su questo periodo dell'anno e per farla questa riflessione abbiamo invitato questa sera ospite in studio il Presidente della conferenza episcopale marchigiana e con noi il Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Buonasera e grazie innanzitutto di essere nostro ospite. Allora, come dicevamo, Presidente della conferenza, quanti sono i Vescovi nelle Marche? Adesso siamo 11 perché alcuni Vescovi hanno da un po' di tempo la responsabilità di due diocesi assieme quindi c'è stata una riduzione però ci sono poi i Vescovi Emeriti che continuano ad abitare nelle Marche e che costituiscono comunque un supporto e un aiuto e anche a un confronto di sapienza credo, come il Cardinale. 11, quindi mi viene subito una metafora sportiva, una squadra, lei è il Presidente, chi è l'allenatore di questa squadra? Speriamo lo Spirito Santo perché se no sarebbe un guaio. Non è semplice riuscire una realtà plurale come le Marche a cercare di farla camminare assieme, però la buona volontà c'è. Poi siamo anche diversi tra Vescovi perché solo due o tre vengono dal territorio, gli altri vengono da fuori, ma io vengo da fuori fino a un certo punto perché l'Umbria è qui dietro l'angolo, però comunque trovare sintonia e poi soprattutto aiutare le nostre diocesi a trovare sintonia è impegnativo. Io vado avanti in questa metafora, il centro avanti c'è chi è tra... Chi fa gol? No, la conferenza episcopale è strutturata per incarichi e commissioni, su ogni settore c'è un Vescovo che fa un po' da riferimento, il lavoro del Presidente non è di guidare quanto di coordinare, così mi è stato insegnato e devo dire che ho visto che è quello che produce di più. Dicevo quattro giorni a Natale, le chiedo, eccellenza, che Natale sarà per la nostra comunità, per la comunità marchigiana? È un Natale che non ci permette di dimenticare situazioni complesse che sono nel mondo, è un Natale più sereno per noi perché abbiamo imparato a convivere con influenze, pandemie, e preoccupazioni di questo tipo, però c'è una pandemia peggiore che è quella della violenza e della guerra che sembra abbia preso a diffondersi con eccessiva leggerezza e facilità. Io non voglio fare il catastrofista, però quando sento ragionare sulla guerra, calcolando che può portare problemi economici, prima di tutto porta a problemi di persone che muoiono. C'è un altro aspetto perché adesso chiaramente la guerra soprattutto, c'è l'attenzione sulla striscia di Gaza, quindi quasi è passata in secondo piano la situazione in Ucraina, poi ci sono tanti altri conflitti nel mondo, sembra quasi una cosa che ci scivola addosso, vediamo queste immagini al telegiornale, ma continuiamo a mangiare gli spaghetti mentre le vediamo. È perché siamo stati inondati di film di guerra che abbiamo vissuto come intrattenimento e a un certo punto diventa difficile a uno sguardo distratto distinguere tra il servizio televisivo su un intervento, su una guerra reale e quello che ci raccontavano le guerre virtuali, però non è virtuale, io ho degli amici che stanno in Israele, amici che stanno ad Amman, anche conosco bene gente della zona di Bethlehem. Mi tenete anche in contatto, immagino. Sì, sì, gli ultimi whatsapp li ho ricevuti ieri sera. È una cosa, forse perché per tantissimi anni ho studiato anche proprio la terra di Israele, ho studiato la Bibbia, ho insegnato l'ebraico, quindi per me è una cultura che personalmente conosco benissimo e conosco anche quanto è complessa la situazione, per cui quando sento con troppa facilità dire chi ha torto e chi ha ragione, qui siamo 100 anni di guerra guerreggiata, lì ma sono almeno 700 anni di complicazioni di cui ancora paghiamo le spese. È veramente una realtà complessa e si era costruito con tanta fatica la via del confronto e è bastato poco per distruggerla. Chiaramente noi vediamo questi scenari internazionali, ma venendo a quella che è la nostra realtà, parlavamo del diverso che fa fatica un pochino a dialogare. Nella nostra regione come valuta l'integrazione con persone di altri paesi, di altre confessioni? Tra l'altro in settimana è stata celebrata la giornata del migrante, siamo stati abituati recentemente a vedere gli sbarchi nel porto di Ancona, nella nostra realtà com'è questa situazione di integrazione? Allora, io intanto vorrei dare una parola di speranza. La parola di speranza è legata al fatto che concretamente si sta facendo e si sta facendo anche bene l'accoglienza e l'incontro nei confronti di queste persone. E poi nelle nostre scuole, dove ormai dall'asilo nido in poi convivono i nostri ragazzi, i nostri bambini e i figli degli emigranti, io ormai noto che non c'è veramente nemmeno la minima percezione della differenza. Io ho visto dei bambini italiani dei bambini, dei migranti che se le davano di santa ragione come se le danno tra fratelli, quindi quello vuol dire che siamo arrivati all'integrazione. È un aspetto positivo. Continuando a guardare nella casa nostra, nella nostra regione, non mancano situazioni di disagio sociale, di povertà. Ecco, una sua riflessione su questo. Sì, la situazione con la quale ci confrontiamo, tutti lo sanno, ha portato in questi ultimi trent'anni ad un accentuarsi delle differenze tra la ricchezza che si sta sempre più concentrando in poche mani e le situazioni di difficoltà che toccano per la scomparsa della classe media molto profondamente anche ai più poveri. Perché la classe media, che era da poco uscita dalla povertà o la vedeva vicina, comunque aveva un'attenzione caritativa e umanitaria verso chi era più povero. Chi vive una vita ad altissimi livelli su uno scenario internazionale fatica anche a rendersi conto di com'è la vita dei poveri, perché è troppo lontana da loro. La nostra regione è stata anche colpita recentemente da pesanti calamità naturali, parliamo di terremoti, di alluvione, ecco, spesso non è facile comprendere perché queste tragedie. Io ce l'ho con quelli che trovano sempre risposte facili, non ci sono risposte facili. Di tutto quello che c'è di male nel mondo, la nostra fede ci dice che c'è in parte una responsabilità umana, perché gli uomini che hanno la libertà possono operare per il bene o anche fare il male, il male lo scontiamo. D'altra parte c'è un mistero del male che non finiremo mai di spiegare, però c'è anche un mistero del bene, cioè il fatto che anche dal male si può trarre il bene. E questo tutti l'abbiamo sperimentato nella nostra vita. Abbiamo vissuto delle esperienze negative che poi se le abbiamo interpretate bene comunque ci hanno arricchito. Questo credo che non dobbiamo dimenticarlo, quel mistero del bene che è sempre in agguato positivamente e su cui dobbiamo costruire. Il ruolo della Chiesa nella nostra comunità, nella comunità marchigiana, ecco, come lo descrive? Ma io vorrei davvero che la Chiesa fosse un lievito, come dice il Vangelo, un lievito positivo, qualcosa che mette in movimento la massa per farla crescere. Il lievito fa questo, mette in moto la massa e la fa crescere, la fa maturare. I lieviti nella birra producono da un'acquiccia che a vederla la prima volta non fa sicuramente venire un gran pensiero, un bel prodotto che poi alla fine ci piace bere, no? E allora ecco, il lievito è poco, non conta sulla sua forza, ma conta sul fatto di essere vivo. Questo credo che sia il compito che la Chiesa ha. Una Chiesa ridotta nei mezzi e nelle dimensioni. Spero che non sia ridotta nella passione. Può fare qualcosa di più, può essere più vicina alla gente la nostra Chiesa di oggi? Ma io credo che almeno nel nostro territorio la Chiesa è vicina perché è fatta dalla gente comune. Sto facendo la visita pastorale. Quando io incontro i responsabili magari della catechesi, i responsabili della Caritas nelle varie parrocchie, sono le stesse persone che ho incontrato la mattina perché uno magari fa il cassiere e quell'altro fa il direttore del supermercato. Cioè la Chiesa qui non è fatta da persone lontane dalla vita, è fatta dalle persone comuni e quindi è naturalmente vicina alla vita delle persone comuni. E anche i Vescovi, tutto sommato su un milione e mezzo di persone, abbiamo un rapporto che ci permette di essere ancora vicini alla gente. Sicuramente io sinceramente quando sto in mezzo alla mia gente vengo da loro, io non sono caduto dal cielo, sono figlio di due operai, quindi per me è la cosa più normale di questo mondo continuare a essere in mezzo alla gente e penso che questo caratterizza la Chiesa italiana ed è bene che continui a caratterizzarla. Parlava della Caritas che è un'emanazione chiaramente della Chiesa che dà una struttura che dà tanto a chi ne ha bisogno. Sì, Caritas è la Chiesa, il presidente di Caritas diocesana è il Vescovo, nel senso che non sono due realtà distinte. È la Chiesa che anima la carità di tutti i cristiani e chi in Caritas si impegna H24 e abbiamo delle bravissime persone che lo fanno con tanta passione, veramente è colui che coordina, coloro che coordinano l'attività di tutti, ma nemmeno un pacchetto della Caritas arriva senza essere passato da tante mani e questo perché è una carità che è fatta dalle persone. Torniamo al nostro periodo natalizio. Le chiedo se esiste ancora la magia del Natale perché sento sempre più spesso dire che non è più così ma forse più semplicemente siamo noi adulti che non viviamo più questo periodo con gli occhi innocenti del bambino. Ma credo che dipende cosa intendiamo per magia. Se intendiamo Harry Potter è bene che non ci sia. Se per magia del Natale intendiamo il fatto che ci riporti a quelle cose fondamentali che ci danno il gusto di vivere. C'era una reclama che parlava del gusto pieno della vita e mi pare che reclamizzava i tortellini, non so che cosa, qualcosa del genere. Ecco, il gusto della vita fatta delle cose vere che uniscono le persone in relazioni vere, non virtuali, non via social. Ecco, questa, se questa è la magia del Natale allora credo che ancora tutti ne abbiamo nostalgia quindi ognuno troverà il modo di viverla. Forse, la correggo, forse non erano tortellini ma era un amaro. Ah, vabbè, non sono un grande amaro. Le chiedo, eccellenza, come trascorrerà la giornata di Natale oltre naturalmente agli impegni, diciamo così, istituzionali? Ma prima di tutto la vivo in diocesi per tutta la prima parte con le celebrazioni della notte e poi della mattina. Poi, adesso se le strade lo permettono che non ci saranno problemi di neve, spero di riuscire in serata a fare un salto su nella mia Umbria anche perché ho sei nipoti e sei bisnipoti e soprattutto i bisnipotini piccoli che non mi vedono mai, se non qualche volta, per telefonino. Sono più bravi di me nel comandare il telefonino. Ogni tanto mi dicono zio vieni e allora vorrei vedere almeno la sera di Natale viverla in famiglia. E insomma, zio Nazareno arriverà a trovare i nipotini. Il ricordo più bello di un Natale, eccellenza? Ma forse i primi vissuti in una situazione complessa. Io vengo da una famiglia che ha avuto, io ho perso papà che avevo cinque anni, eravamo tre fratelli, io ero il più grande. Il mio fratello più piccolo aveva 40 giorni e all'inizio è stata difficile, mamma faceva l'operaia. Il Natale era quel momento in cui mamma poteva stare a casa, stavamo assieme, ma non ci bastava quello. E credo che la gioia semplice di quei momenti è rimasta così dentro. Tra me e i miei fratelli, che di solito facciamo i salti mortali per ritrovarci il giorno del Natale, per ricostruire quello stare, sereni, seduti sul divano tutti e tre, con una masnata adesso di nipoti. Di nipoti. E il più bel regalo di Natale? Forse il più bel regalo di Natale è stato verso i, credo, undici, dodici anni, quando mi è stata regalata la mia prima chitarra. perché mi ha aperto un mondo. Mi ha aperto il mondo della musica, mi ha aperto il mondo del fare amicizia, perché se tu porti la chitarra subito attorno si crea il gruppo di gente che vuole cantare, ma mi ha scatenato la voglia di imparare l'inglese, perché volevo capire le canzoni di Beatles. No, abbiamo una passione in comune, allora. Bene, bene. Esercita ancora con la chitarra? Ma ce l'ho in un angolino ogni tanto. Ogni tanto viene fuori. Diciamo che ho due antistress, uno è la chitarra e uno sono dei vecchi, adesso li ho passati in elettronica, ma erano i miei vecchi dischi, i miei vecchi LP a cui ero affezionato e sono un onnivoro, vado da Barbara Stresan agli Who, ai Getrotal, ai Jefferson Airplane, c'è un po' di tutto. Bene, riconosco insomma alcuni, sarà contenta la nostra direttrice Donatella Vici, che ho sentito insomma alcuni gruppi, con me i Beatles, con me i Beatles, con me i Getrotal. Sono vecchio, sono vecchio, 60 anni dai. Siamo coetani, ma la vogliamo conoscere ancora meglio della musica. Ci ha detto quali sono poi insomma la sua più grande passione, al di là naturalmente di quella che è la sua, di quello che è il suo ruolo, di quello che svolge. Io sono stato fortunato perché quando ho cominciato la formazione da sacerdote, ma ancora prima, io ero molto appassionato del mondo antico, mi piaceva tanto le storie della Bibbia, mi hanno dato modo di studiarle, poi lo insegnate per 26 anni la Bibbia. E allora per me, quando ho tempo e posso mettermi a studiare la Bibbia, è rientrare in un mondo che conosco, dove non solo incontro dei santi austeri, ma incontro delle persone con cui ho confidenza. E per me lì si mescola studio, riposo e preghiera. Ed è un regalo che mi è stato fatto e qualche volta cerco di condividerlo. Bene, il giornalista chiaramente è ficcanaso, quindi l'ultima cosa che le chiedo per conoscerla meglio, le chiedo qual è la giornata tipo del Vescovo di Macerata, da quando si alza a quando va a dormire, che cosa fa? Allora, la giornata tipo del Vescovo di Macerata è di una persona che ha la fortuna di non avere molto sonno, per cui io di solito mi sveglio alle 5 e 3 quarti, senza fatica e senza sveglia, e la prima parte della mia giornata la dedico a fare i conti col Signore, come dico io, cioè a vivere i miei tempi di preghiera, i miei tempi di riflessione, magari in questo tempo, se poi nella giornata ci avrò una celebrazione, mi leggo le letture della celebrazione in modo da preparare un'omelia che non faccia dormire le persone. Io dico che sono il Vescovo con la barba, ma spero di non farla venire agli altri, no? Ecco, questa è la prima parte. Poi dalle 8 comincia poi l'attività della giornata, per lo più, se non sono impegnato altrove, sto in Curia dove ci sono anche le scartoffie, perché nella vita del Vescovo c'è le scartoffie, c'è l'incontro con le persone, perché è una vita di relazione quella del Vescovo. Legare le persone tra loro, farle incontrare, farle dialogare, questo è la gran parte del mio lavoro. Poi c'ho un altro, diciamo, siccome i miei orari sono molto particolari, perché spesso salto di qua e di là, allora spesso dalla vecchia esperienza di parroco sono piuttosto autonomo per mangiare. Mangio pochissimo, quando ho un po' di tempo mi diverto a cucinare, e per cui, ecco, da questo punto di vista non sono un marchigiano, i marchigiani dedicano tanta attenzione al cibo, io sinceramente non dico che vado a snack, però qualcosa di sì. E poi c'ho, vabbè, i miei tempi nella sera di preghiera, di incontro, spesso dopo cena ci sono incontri con le persone, è una vita piuttosto piena, però d'altra parte non sarei ormai capace, sono 40 anni che sopprete, non sarei capace di avere una vita tranquilla. Bene, eccellenza, noi la ringraziamo moltissimo per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Ecco, il ruolo dei media, quanto sono importanti oggi, anche nel nostro contesto regionale? I media sono come un coltello che può sbucciare una mela o ferire una persona. È una grande responsabilità lavorare nei media. Si può fare un sacco di bene e si possono fare anche danni, perché sono potenti. anche quando sembra che non arrivino, anche l'antenna più piccola comunque entra nelle case, incontra le persone a volte sole, in momenti in cui sono rilassati, quindi hanno abbassato le difese. E quindi quello che comunichiamo è molto importante che ci riflettiamo su. Possiamo determinare atteggiamenti di accoglienza, di apertura, di ragionamento, di misura, oppure scatenare le passioni anche peggiori. Sta a noi. Prendiamo questa sua riflessione come spunto, naturalmente, da parte nostra. Come ci lasciamo, Monsignor Marconi, Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, con quale augurio di Natale ai nostri telespettatori? Farse l'augurio di Natale potrebbe essere questo. Nonna diceva sempre aiutati che Dio ti aiuta come c'è scritto nel Vangelo. E io gli dissi guarda nonna che nel Vangelo non c'è scritto. E lei mi disse si vede che non lo sai leggere. Cioè è una bella sintesi. Il Signore ci viene in aiuto, sempre, ma sta anche a noi fare un pezzettino di strada. E credo che qui nelle Marche questa voglia di fare da sé c'è nel popolo marchigiano. Non la perdiamo. Che i giovani siano orgogliosi di far parte di un popolo che ha sempre lottato e si è sempre fatto strada. Un pochino di orgoglio in questo senso credo che sia importante. non diventiamo come dice Papa Francesco incarnati nel divano. Muoviamoci. Questo penso sia importante. Grazie Monsignor Marconi. Buon Natale. A voi. Di cuore. E grazie a voi che ci avete seguito. Focus torna la prossima settimana. Buona serata. 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 Buona serata.